Dentro un album dove si parla di infinito e di finito non poteva mancare assolutamente il tempo Tempo che è un concetto che non esiste, l'abbiamo inventato noi perché noi siamo immersi dentro un ciclo che è limitato per noi Quindi il tempo è un qualcosa di importantissimo, noi non abbiamo nulla di più importante del tempo Buttare tempo vuol dire buttare attimi preziosi che non torneranno più Non fare oggi quello che puoi fare domani, vuol dire spesso anche evitare di fare domani quello che potevi fare effettivamente domani E farlo il giorno dopo ancora, quindi trasli di un giorno e hai perso un giorno Un giorno che quindi poteva essere dedicato ad altro e poteva essere dedicato a qualcosa di più importante Che ti avrebbe portato magari ad avere un risultato più grande Quindi buttare tempo è una cosa che non ha senso È una cosa che ho capito subito, anche se sono molto giovane ho capito subito questa cosa del buttare tempo Che è assolutamente un'idiozia, anche stare dietro a criticare gli altri senza senso Criticare gli altri non è assolutamente una sconfitta per gli altri ma è una tua perdita di tempo Quindi una sconfitta per te che stai criticando senza senso E stai andando avanti a perdere tempo che potrebbe essere dedicato a fare effettivamente qualcosa di più importante Grazie a tutti